Ho detto se volevo andare a fare un film in cui c'erano attori che mi interpretavano. Sono in grucia dalla tradizione italiana e la politica. Per un'altra cosa ho fatto la stupacca per questa maniera. Una parte che sarò in grucia perché ti possiamo salire. Sto che? 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 Non sembra a essere senza ingeniera. Sto in un mondo. Sto. Sto stugati? Sto. Sto in un mondo. Sto fr ancora con i miei e non è così è una chimica strana poi insomma che riesce pure ad un'eretica e che è un'eretica non è un'eretica una persona di 70 una persona che è un'eretica più vicino c'era uno che ricornava anche lui è un'eretica è una cosa che funziona così non lo so che faremo più è una chimica non è un'eretica ma non funziona più ma non è un'eretica ma non è un'eretica ma non lo riprendiamo per questa idea è che una prima la prima cosa è un po' arrondino però allora io ti ho una cosa importante credo che sia importante quando esiste una storia perché abbiamo vissuto insieme abbiamo vissuto come quattro insieme anche con tanti altri ragazzi che hanno avuto meno successo di noi ma quando c'è una storia io faccio fatica a realizzare qualcuno perché ho condiviso una storia che è stata più bella che tutta molto più bella che tutta e allora faccio fatica a tenere un piccolo rancore anche nei nostri villaggi poi poi certi rancori quando sono 25 anni e adesso che ci sono 20-70 vediamo cose realmente che lo fanno dimenticare questo qui credo che sia importante per noi è il merito suo è il merito di noi non è il merito di noi non è il merito di noi adesso voglio anche dire dopo se la cosa proponga non ti entro ma è quella ma è quella ma è quella non so neanche la risposta hai parlato scusi c'era una domanda bella ma secondo lei per quale motivo ci hanno dimenticato ci hanno dimenticato da quando abbiamo vinto la Coppa dei questi da oggi ma questo non l'avete potuto dire ma prima tu non mi pare dire a me questo l'avete potuto dire ma tu non mi pare la passione della passione ma prima hai detto tu certe cose no però tu devi dire non mi pare la domanda chi l'hanno detto prima e poi ha sempre fatto così io ho detto che ci hanno dimenticato perché no io posso dire questo che in tutti i giornali più importanti del mondo una una storia come la nostra parlo della lettera di Coppa Davis viene celebrata ricordata messa in grande evidenza i quei giocatori che sono che sono stati protagonisti che hanno vinto una Coppa Davis sono stati protagonisti per i risultati vengono voglio dire celebrati tutti gli anni vengono racconti in una gli viene fatto voglio dire uno spazio apposta insomma ecco questo succede in tutti in tutto il mondo non succede qui in Italia non succede nel torneo più importante che noi abbiamo in Italia in uno ritalico dove tra l'altro io non ho mai fatto dei grandi risultati perché tifavano tutti per Adriano per cui non lo potevano vedere semplicemente gli facevano gli facevano gli venivano solo per farmi spaccare le racchette per cui chiaramente lui ha vinto ha fatto anche il finale lui è arrivato in finale romano quindi c'era proprio una grande sfida ma insomma proprio di Romani